Pensavo non esistessero molte chimiche passate alla storia, ma ho scoperto che semplicemente non avevano voce. Io sono Marie Curie, scoperitrice del radio e del Polonio. E io sono Lise Meitner. Non mi avete vista nel film Oppenheimer, ma la fissione nucleare è stata scoperta anche grazie a me. Io sono Marguerite Peret e dopo di me la tavola periodica non è più stata la stessa. Le grandi scienziate raccontano la propria vita, tra pregiudizi, ostacoli e scoperte rivoluzionarie in Noi Chimiche Coraggiose, storie di donne che hanno cambiato il mondo. Il podcast di Fatti Non Fake, il magazine di FederChimica.